Andrea Rigoni non cede, la pedalata è molto svelta alle sue spalle non si vede più nessuno si gira Andrea il seguimento di Andrea Diego Fenaroli, Fugitivo uno è Fugitivo e anche Diego Fenaroli Fugitivo ha mollato per un secondo ha avuto un momento di cedimento adesso si è ripreso che tira il duo Fugitivo è partito a bomba dopo ha avuto un momento di cedimento Andrea Rigoni lo ha sorpassato adesso non so quanto abbia ma ha un bel vantaggio ha un bel vantaggio Andrea ecco ancora Diego il duo che insegue anche Diego non molla non molla neanche lui non so che sia quello che è partito a bomba ancora Diego adesso cerchiamo di ecco Diego ecco Diego Diego fa di tutto per staccare viene lì eh 15 secondi avrà 10 secondi 10 secondi Andrea lo vedo qua avanti e qua 100 metri ah lo vedo allora bella bella rimonta Diego ecco Diego ha staccato il compagno di controattaccanti sta cedendo un po' è stato un po' sono stato un po' voglia parla bella o sono stato delicious Diego vabbè molla mia Diego ha intenzionato di andare a riprendere Andrea Rigoni avrà 10 secondi di vantaggio Andrea vedo che il terzo ha ceduto ancora una volta c'è ancora Diego, Diego lo ha sceminato dai, dai Diego, forza, forza 10 secondi Diego indietro adesso, numero 47 il terzo ha intenzionato di andare a riprendere il tiro grazie grazie grazie